Prima di ritornare da Antonio Tolomei e le sue poesie in cucina, uno sguardo ai quotidiani, le pagine che si occupano della cronaca della Versilia e di Viareggio. Iniziamo dalle pagine della Nazione, confesercenti, al bando, racket, usura, contraffazione e abusivo. Le imprese chiedono più legalità e per questo vogliono un vertice con il questore di Lucca e il prefetto. Sapete che in Versilia ci sono problemi di questo tipo ormai da molti anni, ma soprattutto riguardo la legalità, il racket e l'usura, sembra che ci sia una recrudescenza del fenomeno negli ultimi anni. Andiamo invece all'online Versilia Today, sapete che i titoli di apertura girano su Versilia Today, consiglio di rimanere un attimo e guardare, a parte le offerte di lavoro, ecco la foto delle strane nubi che attraversano la Versilia, che ieri sono diventate virali sul web, la vicenda di Corrado Tedeschi e dei soldi che dovrebbe avere dal comune di Camaiore, le foto del carnevale che hanno vinto il concorso di Versilia Today e poi l'approfondimento. Franco Mungaia, il sindaco più popolare della Versilia, il sindaco di Massarosa e invece il sindaco di Pietrasanta Lombardi sarebbe il meno gradito. L'apertura della cronaca dedicata a Moretti, l'amministratore delegato di Ferrovie. Moretti, dovunque vada, è inutile, costoso e dannoso, questa è l'apertura al vetriolo della cronaca di Versilia Today. Sul Tirreno, la prima pagina di Tirreno Viareggio, Maxi condanna per usura, è lo stesso titolo che abbiamo trovato su Lucca, ma siccome si tratta di un viareggino, il Tirreno ci apre addirittura la prima pagina, prestito a tassi fuori legge, sei anni a un anziano di Areggino. E poi, sempre riguardo a Viareggio, chiude il museo della marineria e scatta la protesta, la rabbia di chi lo ha tenuto in vita, un'offesa alla storia di Viareggio. Poi per quanto riguarda il resto della Versilia, nel taglio basso della prima pagina del Tirreno, in arrivo a Pietrasanta e a Massarosa, decreti ingiuntivi milionari e sono a rischio i bilanci di entrambi i comuni. Sempre per le prime pagine, le pagine interne del Tirreno, la ripresa di quella che è la foto di apertura della cronaca di Viareggio, chiude il museo della marineria, ma noi stiamo dentro, è la protesta dell'associazione che lo teneva aperto. Qualcuno intervenga, vedete la foto, con gli associati che si sono richiusi dentro, si tratta per lo più anche di persone anziane. L'assessore Glauco Dalpino aveva assicurato che non c'erano problemi. Errore mio, il motivo di questa decisione sta nella convenzione che non era regolare. Così l'assessore Glauco Dalpino della giunta Betti di Viareggio. Più in basso, una notizia che consiglio di leggere, ci sono novità sugli affitti estivi perché cambiano le regole. La comunicazione degli inquilini va fatta alla polizia via internet. Quindi chi affitta case o appartamenti a Viareggio, bene che si legga le nuove regole per non incorrere in sanzioni che potrebbero essere anche pericolose. Nel frattempo siamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il quotidiano nazionale La Nazione che apre con la notizia di ieri dell'approvazione in Senato del decreto che praticamente azzera le province. Vince Renzi, province K.O. Il capo del governo piega le resistenze, incassa la fiducia e impone la riforma. Una riforma che pronti via porterà nelle casse dello Stato 400 milioni di euro, più tutti i risparmi futuri. Altri obiettivi di Renzi via il Senato e più poteri al premio. E Matteo Renzi che ripete, se fallisco mi ritiro. A proposito della decisione di tagliare le province, vi ricorderete che era una decisione che era già immersa con il governo Monti, ma allora si parlava di comuni urbani, quindi di annettere per esempio la provincia di Lucca a Pisa piuttosto che non a Prato. Questa è invece una rivoluzione a 360 gradi completamente diversa. La provincia diventa un'istituzione di secondo grado, ma mantiene per certi aspetti anche l'imprimato dell'istituzione. Vediamo il servizio preparato ieri dalla redazione giornalistica del TG. Il nostro servizio è andato in onda proprio nel nostro telegiornale della sera e dedicato alle province, subito dopo che Matteo Renzi ha incassato la fiducia al Senato su questo decreto. Senatori favorevoli 160, senatori contrari 133, il Senato approva. Prima approvazione in Senato per il decreto del Rio, la legge che prevede il superamento delle province. Il provvedimento adesso passerà all'esame della Camera per la definitiva approvazione. Le province quindi, compresa quella di Lucca, si apprestano a diventare istituzioni di secondo grado. Sparisce il Consiglio provinciale eletto dai cittadini e l'ente perde quasi tutte le competenze operative a beneficio delle unioni dei comuni. L'obiettivo è quello del risparmio sui costi della politica. Ma il decreto prevede altre misure che riguardano gli enti locali del nostro territorio già a partire dalle prossime elezioni del 25 maggio. L'aumento dei consiglieri comunali e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti e la possibilità del terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 3.000 abitanti. Se la legge venisse approvata anche dalla Camera in tempi utili, cioè entro il 5 aprile, potrebbero ripresentarsi alle elezioni otto sindaci uscenti al secondo mandato che in questo momento non possono ricandidarsi. Mario Puppa a Careggine, Domenico Davini a Minucciano, Fabio Reali a Giuncugnano, Mario Puglia a Vagli, Pier Romano Mariani a San Romano, Francesco Giuntini a Castiglione, Dorino Tamagnini a Villa Colle Mandina e Arturo Ballini a Villa Basilica. Dunque avete sentito che nel decreto ci sono anche altre prelogative. Torniamo da Antonio Tolomei, dal suo volume La poesia in cucina, perché è un volume dalle molte sfaccettature, si parla di ricette, si parla di diete, come abbiamo sentito grazie anche ai medici, diete che possono servire, chi è affetto da alcune malattie croniche, si parla di poesia, ma si parla anche di arte figurativa, perché il libro è arricchito dai lavori, le compartecipazioni, dei più importanti pennelli lucchesi, no Antonio? Lucchesi sicuramente, perché l'idea di mettere la pittura, come ripeto, era nata da questa amica, la figlia del maestro Ceragioli, famoso direttore d'orchestra della radio, che è pittrice e mi aveva regalato questo carciofo, ecco, allora dico, e io avevo fatto il sonetto ispirato al carciofo, allora dico, perché non mettere anche pitture dei nostri pittori lucchesi ispirate al cibo? E così, diciamo, Labaretti, Possenti, Benvenuti, Aldo Maretti, Possenti, Muscatello, questi qui lucchesi, a cui faccio anche tanti auguri in questo momento, mi hanno dato queste pitture per inserirle nel libro e arricchirlo così con queste immagini, è tutto ispirato al cibo. Con Possenti la tua collaborazione va avanti da tanto tempo, no? Con Antonio Possenti. Ah, sì, 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 ma Antonio Possenti addirittura è tanti anni che ci si conosce, ma anche tutti gli altri, perché a parte la gioventù, perché lui ha fatto le medie a corte portici dove le facevo anch'io, all'epoca quando c'erano le medie a corte portici, cioè però poi io ero entrato in amicizia con il dottor De Rie, che era un mecenato, era un critico d'arte e un po' tutti i pittori facevano un po' capo. Allora ci si trovava, ci si trovava delle scene con cui appunto c'è qualcuno che è mancato, c'era lo scultore Rossi e si erano entrati proprio in questa amicizia e ci si trovava così, tanto è vero che quando andavamo in qualche locale all'epoca, ora non succede più, i camerieri venivano e dicono maestro fammi uno schizzo, fammi uno schizzo e si contenta. Addirittura io mi ricordo chi con lo zucchero e il caffè facevano dei disegnini, a me chiedevano le rime per le fidanzate, per le ragazze, questa è una tradizione purtroppo che è persa, si è persa e questo dispiace molto perché svuota l'uomo, svuota di quella carica umana che ci vorrebbe, forse ora più di prima. Poi lì c'era un incontro di arti anche diverse, adesso invece è tutto molto più settoriale, più radicale chicche, gli scrittori che fanno tutto per conto l'ore, un circolo chiuso. Anche a perdere il caffè di Simo dell'epoca, il caffè di Simo dell'epoca. Lì erano punti di riferimento, da Puccini a Leopardi, da Puccini a Pascoli in giù, ed era appunto questo qui, questo si sta perdendo, anzi nonostante noi si cerchi così di ritrovarci, questa perdita sicuramente graverà sulle generazioni future, se non si cambia rotta. Ancora avanti con le prime pagine dei quotidiani, abbiamo letto delle province, ci sono altri titoli importanti, la visita di Barack Obama a Roma, non tagliate le spese militari, dice Obama, c'è il caso degli F-35 con Renzi che vuole tagliare anche le spese della difesa e Obama che dice che comunque la libertà in qualche maniera costa e va tutelata anche spendendo soldi in questa maniera. Nella capitale oltretutto è scattato l'allarme perché c'era un rischio, attentato piuttosto alto secondo l'intelligence e quindi c'erano misure eccezionali di sicurezza. Purtroppo la foto di centropagina è dedicata a Michael Schumacher, disperate le condizioni di Schumacher, il medico della Formula 1 è pessimista e dice prepariamoci al peggio, è la prima volta che si parla in questo senso, è un titolo che viene ripreso un po' da tutti i quotidiani, quindi mi pare di capire che non siamo alle voci, ma siamo purtroppo davvero a degli annunci. Il Tirreno, la cronaca nazionale che viene aperta con via alle province, al Senato il governo tiene, 160 sì alla fiducia e poi ancora notizie che riguardano la cronaca nazionale, Renzi è d'accordo, Napolitano tagli sì ma solo se motivati, questi i titoli della politica, è invece un approfondimento tutto del Tirreno, adulti più aggressivi anche a causa della crisi, maltrattamenti e abusi in aumento su migliaia di bambini che sono da proteggere, le cinghiate su quei corpicini, ci sono anche dei dati di violenze sui minori in Toscana con aumenti vertiginosi anche del 23% dal 2010 al 2012. Siamo adesso alla Repubblica e sulla Repubblica dobbiamo aprire un capitolo tutto particolare perché oggi il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari cambia completamente il suo volto, non per quanto riguarda l'impaginazione ma per quanto riguarda i contenuti. E allora vedete sulla prima pagina c'è scritto che si tratta di un nuovo inizio, poi all'interno, ve l'ho sfogliato proprio com'è, c'è la prima pagina con dei titoli che sono completamente diversi anche dagli altri giornali. La Repubblica scrive un giornale per l'Italia del futuro, Repubblica ha l'innovazione nel DNA e a questo codice rimane fedele anche oggi perché il Paese chiede riforme e modernità e il bisogno di cambiamento coincide con le nostre speranze. Quindi ci sono i titoli però più che titoli che sono diversi, vi dicevo, vi leggerei qualche riga dell'approfondimento che c'è all'interno del dorso della prima pagina, approfondimento di Ezio Mauro dove spiega che Repubblica praticamente lavora 24 ore su 24, sette giorni su sette con 3 milioni di copie vendute del cartaceo e 2 milioni e mezzo di utenti unici per il sito. Quindi la scelta qual è? La scelta è che le notizie che sono state in prima pagina sul sito per tutta la giornata di ieri prendono un'importanza minore all'interno del giornale da oggi, all'interno della Repubblica Cartacea e quindi sulla prima pagina non ci sono accenni alle province, come peraltro sugli altri giornali, non ci sono accenni neanche ad Obama, però ci sono notizie importanti. Intanto l'Unione Europea cambi su crescita e occupazione, l'intervista al Ministro dell'Economia Padoan e poi all'interno un'inchiesta dedicata a Forza Italia, da Torino a Napoli, fuga da Forza Italia che va in frantumi e manda in frantumi anche il sogno di Berlusconi e poi vi consiglio di leggere l'intervista alla Giannini, la ministra lucchese del governo Renzi, Giannini, la mia scuola darà più soldi ai professori e parlerà inglese anche dalle elementari. Quindi la nuova strada della Repubblica che passa proprio da notizie diverse da quelle del web del giorno primo. Vi consiglio l'intervista di Corrado Zunino a pagina 19 della Repubblica. Invece la prima pagina del Corriere, anzi facciamo così, per un controllo e per capire bene le novità di Repubblica guardiamo subito il sito di Repubblica che è diverso come avete visto dalla prima pagina. Giampiero ci può fare anche un confronto. Ecco il sito di Repubblica.it, apertura dedicata al nuovo volto messo online dalla Guardia di Finanza, l'Identikit di Messina Denaro. Un confidente ha visto da vicino il super boss di Cosa Nostra che è tuttora ricercato e sarebbe in questo momento il capo della cupola. E poi c'è proprio l'approfondimento con Ezio Mauro che parla di un giornale per l'Italia del futuro e spiega come la Repubblica nel 2014 cambia e va a dividere la propria strada fra cartaceo e online. Infatti vedete che sul cartaceo il titolo di apertura riguarda l'Unione Europea e riguarda anche una vignetta di Altan che parla del vento dell'ultradestra che ha vinto in Francia e quindi una vignetta proprio di Altan. Andiamo al Corriere della Sera con l'apertura dedicata a Obama, un'intervista importante, l'uomo più importante della terra al presidente americano che parla di unione di intenti con Papa Francesco per sconfiggere la povertà e poi parla dell'Italia e dice che nel Mediterraneo la leadership dell'Italia è benvenuta. Importante che la Tunisia sia stata il primo viaggio di Renzi. Poi il titolo di centropagina dedicato al Senato che taglia le province sia l'abolizione, non si rinnoveranno gli enti in scadenza. Del Rio vuole un paese più semplice, il governo ottiene la fiducia. Ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, poi di nuovo qua e terminiamo con le pagine dedicate allo sport.